Per i vera sport.it siamo con il direttore sportivo dell'Imperia, Sassu. Per voi una sconfitta qui a Quigliano contro la Rivalorese, si è vista un'Imperia sicuramente peggiore rispetto alle ultime uscite in campionato? Non sono d'accordo, peggiore. Ci sono mancate purtroppo le punte titolari, i ragazzi che hanno giocato hanno cercato di fare il meglio, certamente non hanno né l'esperienza e né la capacità dei titolari. Nonostante per me l'Imperia ha giocato nettamente meglio che a Rivarolo e meritava certamente di vincere. Poi il calcio certe volte non premia i migliori, però so che c'è. Oltre all'infortunio già di Sancia, anche quello di Daddi ha condizionato sicuramente la gara. Sì, in più mi sembra che ci sia anche il fortunato Corio. Domenica contro il Busalla, Ben Cardino ci penserà un po' a fare la formazione, perché non è che siamo poi così tanti. Domenica contro il Busalla sarà importante ripartire subito con una vittoria. Io dico che non è semplice, però cercheremo di battere il Busalla, che è una squadra, mi sembra, abbastanza ostica. Grazie.